Siamo di là in centro un attimo, sentiamo com'è Com'è Massi? Bellissimo! Walter com'è? E' buona, con l'ombrellino! Guarda che roba! Madonna quanta! Trovate? Avventura! Attenzione abbiamo rallentato, frenare per favore! Frenare! 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 Qui dietro? Andiamo verso il paese, forse è meglio, no, eh? Sì, dai. Ammazza Dio! Ci siete? Tutto a posto Fabrizio? Vai lì. Facciamo un po' di cambio? Sì, ti ricevo, tu? No, chiediamo se siete battendo voi o l'avete trovata già abbastanza? Stiamo battendo noi, siamo qua che vi aspettiamo, vi vediamo. Vai a te, Massi. Vai, vienela. Facciamo come in bici. Sì. Il trano? Vai. Si è morto? Vai. Vai avanti. Guarda il banner, è il migliore. Vai. Vai. Questa è una Midland. C'è. Ho preso da quello piccolino, fino all'estero dallo carro. Ci aspiamo le tratture. Ci aspiamo più compatte. Tiene a roba. Sì. Ma dov'è? Come faticano questa pantella? Del taglio. Eh? passaggio e ma non è male però fa fatica aspetta salvezza davanti l'alersia, vai per l'eccezionale batti la traccia vai padre va bene va bene va bene Alla prossima. a 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 guarda il bastoncino a 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 allora il walter sta salendo praticamente in verticale è in verticale il problema è che se cade qua ci ammazza tutti ci investe ce la faccia fa ce la fa ormai ce la fa ormai ce la fa dai dai è la strada guarda qua com'è è è la strada che domande che domande se rampega grande grande questo è un'idea che è un'idea 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 un'idea